Teo, fatti vedere fatti vedere ciao sono Teo adesso tiriamo via con l'affarino lì ha fatto cadere la ciotola appena gli ha messo a terra non si vede che aveva fame perché si vede che ha famissima l'ha fatta dove c'è oh ma io la lascio dire mi sa che è abbastanza vivace come cane fatti vedere dai sta raccogliendo tutto appena è arrivata in casa ha fatto una cacca no la prima cosa che ha fatto appena è entrata in casa ciao saluta mi ha spazzolato proprio tutto ha finito non ha fame Teo Teo viaggge 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 Grazie.